Salve a tutti ragazzi e benvenuti su Elite Gaming, benvenuti su Destiny con il nostro appuntamento settimanale dedicato ai drop. Per chi seguisse la mia pagina Facebook saprà che per tutta la settimana sono tornato ieri mattina, sono stato via, ero berlino. Quindi anche le mie attività questa settimana sono state veramente poche. E alla fin fine questo video sarà un recap di quelle che sono state le mie prime prove di Osiride fatte ieri sera soltanto con un personaggio. Diciamo però che tutto sommato non mi è andata malissimo. Infatti abbiamo fatto subito il 9-0, siamo andati sul faro e abbiamo completato tutte le taglie. Di partite ne abbiamo giocate di per sé 10 perché 9 vittorie è una sconfitta che c'era la pietà di Osiride quindi non ce l'ha contata, abbiamo giocato una partita un pochino malaccio. I drop sono stati, a 5 vittorie gli schienieri per il cacciatore cioè il personaggio che ho utilizzato, quelli del set principale. A 7 vittorie abbiamo droppato praticamente tutti il fucile da ricognizione e devo essere sincero, gran bella arma soprattutto per i perk. Infatti l'ho droppata con momento zen e autofuoco, autofuoco che dovrebbe esserci già di default e l'altro perk semplicemente era momento zen. Abbastanza buono devo essere sincero. Al 9-0 poi finalmente siamo arrivati sul faro e cosa ho trovato? Di nuovo il fucile da ricognizione è affinato da 315 quindi neanche al massimo cosa che un pochino mi dà fastidio e questa volta però con terzo occhio. Onestamente però non so ancora quale delle due armi terrò perché ok terzo occhio è un buon perk, momento zen anche sarei più propenso a tenermi terzo occhio onestamente ma devo ancora provare un po' l'arma per vedere com'è. Infine consegnando tutte le taglie con l'ultima del pacchetto oro ho droppato il mantello del cacciatore, sempre quello di Osiride. Di per sé non mi dispiace come drop ma primo me l'ha dato 302 che è una miseria, secondo avrei preferito trovare un'arma magari il fucile di precisione giusto un po' per provarlo piuttosto che un'arma pesante. Ero curioso di vedere un po' com'erano sinceramente, a cavallo donato però non si guarda in bocca quindi chi se ne frega settimana prossima andrà sicuramente meglio. E voi come sono andate a queste prove di Osiride? E gli altri drop? Cosa avete trovato? Finalmente la supercella Zalola ha venduto Xur quindi penso che i commenti relativi a quest'arma saranno molto meno. In ogni caso sarò ben lieto di leggere e rispondere a tutti quanti. Da parte mia con il nostro appuntamento settimanale dedicato ai drop è tutto, come al solito io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi invito pertanto a lasciarmi il vostro feedback. E noi ci sentiamo al prossimo video, ciao a tutti ragazzi!